Chiederei di non scappare perché ci sono ancora una mezz'ora intensa. Altre domande? Tanto avremo tantissime occasioni di rivederci nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, sul sito, non sul sito, nelle sale, dove vogliamo. Quindi avrete modo di chiarire le vostre cose. Allora noi vorremmo a questo punto, se tutti quelli che sono in sala, procedere con la votazione del codice etico, lo statuto vi è stato illustrato, l'avete avuto in copia nella cartellina. Se ci sono domande a riguardo di questo, se no passeremo a una prima votazione delle persone che sono in sala, di questi due documenti. Siete d'accordo? Ci sono dei chiarimenti? Abbiamo i legali, i giuristi? Allora se siete favorevoli mettiamo in votazione i due documenti e vi chiedo di alzare la mano. Non tutti. Va bene, i voti poi li contiamo alla fine. Ci sono degli astenuti, ci sono dei contrari. Approvato all'unanimità il nuovo codice etico. Adesso io leggo i nomi, poi chiederei al Presidente di venire qua a cogliere poi la votazione. Ci sono 13 candidature per il Consiglio Direttivo e poi una candidatura per la Presidenza. Vi leggo i nomi dei candidati al Consiglio Direttivo che è il Consiglio Direttivo. Armand Fabrizio, Barail Piergiorgio, Bredi Claudio, mi dicono di ricordare che sono divisi in zone che rappresentano il territorio. Bruno Claudin, Corti Paola, Desaimonè Riccardo, Gerardin Elso, Glarei Alessandro, Grosjean Vincent, Giordano Corrado, Marra Fabio, Tussabina e Vierendino. Non ci sono altri nomi, quindi anche qui vi chiederei una votazione del Consiglio Direttivo. Se siete d'accordo alziamo la mano per cortesia. Grazie. Grazie e per la candidatura Presidente lascio l'onore. Chiaramente voglio dire l'allargamento di tutto questo Consiglio sarà fatto con le commissioni, con i rappresentanti delle commissioni che formeremo adesso che il Consiglio Direttivo comincerà a lavorare e che quindi avrà una copertura molto ampia sia come competenza che come territorio e evidentemente produrrà tutto quel lavoro di cui abbiamo parlato prima. Lascio al Presidente... Sì, prima di dirvi chi è il candidato Presidente devo dire due parole sulla mia breve Presidenza. Io ho dato la mia disponibilità per transitare in questo periodo breve ma intenso il movimento e però sin da subito avevo posto un po' le mie riserve anche per una continuazione dopo questa giornata in questo ruolo per ragioni personali, per ragioni legate al mio lavoro, per ragioni legate alla mia numerosa famiglia e quindi ho deciso insomma di non candidarmi a Presidente. Peraltro la candidatura Presidente è da parte di una... Come? Ah sì, 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 sì. La candidatura Presidente è da parte di una persona giovane, una che qualcuno ha definito i giorni scorsi a chilometri zero nella politica e credo che questo sia un ulteriore valore aggiunto per questo movimento. È una donna, è giovane e quindi credo che abbia tutte le caratteristiche... Credo che abbia tutte le caratteristiche per rappresentare il vero, vero rinnovamento che vuole esprimere questo movimento. Chiamerei quindi qui con me Alessia Favre. Forse prima che devo parlare dovreste, penso, votare. Allora, io l'ho preso come un applauso di acclamazione, quindi comunque, chi è d'accordo per la candidatura di Alessia Favre? Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità abbiamo un nuovo Presidente. Chers unionisti progressisti, chers valdottini, chers amici, merci di vostra fiducia. Allora, io comincio la tazione oggi con grande responsabilità e l'honneur. L'Unione valdottina progressista ci dona e mi dà l'espoir che ci sia nuovo un movimento capabile di valorizzare che ciò che tutto il valdottina di valdottina per la nostra regione. L'espoir che ci sia ancora una politica saine, con idee, con idee, con valori, con obiettivi cli per la nostra comunità. Io tâcherò di essere la porta parola di nostro movimento, che è in un momento difficile per la nostra regione, un momento in cui i malati dinamici hanno eliminato la società civile e i citoyens della politica, in cui c'è confusione sui rôles e sui devoirs delle istituzioni. Per questo io vi dico che dobbiamo essere rispettosi, onesti, coraggiosi. Dobbiamo essere rispettosi di tutte le opinioni che compongono il nostro movimento, capaci di ascoltare tutte le voci, anche quelle più timorose, anche quelle che talvolta non ci piacciono, perché sono voci diverse, solo voci diverse insieme, che cantano a fare un vero coro e a dare valore aggiunto alle linee di un programma politico. Dobbiamo essere rispettosi dei savant, che hanno l'esperienza e possono aiutarci a crescere e ad imparare, anche dagli errori del passato. Dobbiamo essere onesti, per ridare fiducia alla nostra comunità, una comunità che si sente dimenticata. Dobbiamo essere onesti nel sostenere i nostri giovani, giovani che meritano prospettive di lavoro concrete e non basate su mere logiche clientelari. Giovani che sanno cos'è la meritocrazia e che ora giustamente la reclamano. giovani che devono avere uno spazio chiaro, perché carichi di entusiasmo e di speranze per il futuro. Dobbiamo essere onesti per essere un esempio per i nostri figli. E per insegnare ai nostri bambini e ai nostri figli che la dignità non ha prezzo, che i sogni non si comprano e che il lavoro è un diritto. Dobbiamo essere onesti per dare orgoglio ai nostri genitori e ai nostri nonni, che ci hanno insegnato ad amare la terra e ad andare lontano per poi tornare a casa e costruire qui il futuro della comunità valdostana. Dobbiamo essere coraggiosi, anche per le persone che hanno paura. Paura di esporsi. Paura di dire la loro, paura di farsi vedere ai comizi. Dobbiamo essere coraggiosi come lo siamo stati nel percorso che ci ha portato ad essere qui oggi. Perché se in alcuni momenti siamo stati da soli, ora siamo un gruppo, ora siamo un movimento, ora abbiamo un candidato per Roma da sostenere e da far vincere. Con il nostro programma diciamo basta alle minacce, alle concezioni verticistiche del fare politica, diciamo basta agli incontri clandestini e alle code per i posti di lavoro, diciamo basta ad un modo di fare politica fermo agli anni 80, intriso di influenze socialiste. Rivendichiamo metodi... Rivendichiamo metodi corretti nell'amministrazione della cosa pubblica, il rispetto per le regole e per gli altri. Rivendichiamo opportunità di lavoro, logiche democratiche e dinamiche trasparenti. Rivendichiamo atteggiamenti diversi. Nell'avere scelto presidente me di questo nuovo movimento, e vi ringrazio con tutto il cuore, tutti insieme stiamo dicendo basta a vecchi metodi di intendere i ruoli politici. Basta a presidenti stipendiati e a tempo pieno. Basta alle decisioni di uno solo, basta alle riunioni sul territorio fatte solo per raccogliere voti o per indirizzare le scelte dell'urna. E vi dico, potranno anche cercare di tagliare tutti i fiori, ma non fermeranno mai la primavera. Valdottin, unionista progressista, Levon la tette tre o, vive l'union valdottin progressista e vive la Valle d'Ost. Bene, ci complimenteremo velocemente, ma a lungo poi con Alessia. Intanto Filippo parte con la canzone, diamo il microfono subito dopo Luciano. Fermati qua Alessia, fermati qua, e che presenterà la candidatura di Loram.